Avvocato Girotti, rappresentante OUA, organismo unitario avvocatura, vuole spiegarci i motivi di questa conferenza questa mattina in tribunale? I motivi di questa conferenza sono in parte anche per riferire dell'attività che ha svolto l'OUA sul territorio non solo nazionale ma anche su base locale per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stessi cittadini utenti del diritto delle problematiche che potrebbero derivare dalla entrata in vigore in parte già in essere della media conciliazione così come è attualmente concepita. Allora l'OUA ha proposto un ricorso al TAR contro la media conciliazione così come poi entrata in vigore. Questo ricorso al TAR ha dato luogo ad una ordinanza da parte dello stesso TAR che ha ravvisato la non manifesta in fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale che noi come OUA ma chiaramente rappresentanza di tutta l'avvocatura abbiamo proposto. Passato il messaggio che questa media conciliazione fosse comunque uno strumento utile e vantaggioso per il cittadino. Ma questa presunta utilità deriverebbe dal fatto che questa procedura rappresenterebbe dei vantaggi di celerità nella soluzione di determinate questioni. Ma si è omesso di dire che in realtà il regolamento così come approvato da parte del Ministero non ha in alcun modo indicato dei criteri che il mediatore deve soddisfare. Quello che non si è detto è che la figura del mediatore non è necessariamente una figura tecnica. Basta essere scritto a un albo e potrebbe essere un albo dei geometri piuttosto che di altre figure professionali anche senza laurea quindi e previo completamento di un corso di 50 ore si può svolgere tranquillamente la funzione di mediatore. Allungamento dei tempi tecnici e dei costi nei processi civili. Esatto perché poi ovviamente la proposta formulata laddove è formulata da persone non dotate di adeguata preparazione tecnica importerebbe un semplice differimento dell'introduzione della lite. Cioè vi è un differimento che coincida al tempo necessario per l'espletamento del tentativo di mediazione. Grazie a tutti.